C'è un'assenza impressionante nel testo del Padre Nostro. Se io domandasse a voi qual è l'assenza impressionante del testo del Padre Nostro, non sarà facile rispondere. Manca una parola. Tutti pensano, cosa manca nel Padre Nostro? Pensate, cosa manca? Una parola. Una parola che ai nostri tempi, ma forse sempre, tutti tengono in grande considerazione. Qual è la parola che manca nel Padre Nostro che preghiamo tutti i giorni? Per risparmiare il tempo la dirò io. Manca la parola io. Grazie. Grazie. Grazie.